Attimo News. Dal mondo a te, in un attimo. In una notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo e i fan di Martina Colombari, l'ex Miss Italia e apprezzata attrice e conduttrice televisiva è stata recentemente operata d'urgenza all'addome. Questo evento ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi sostenitori e ha messo in luce la sua forza e resilienza di fronte a sfide inaspettate. Martina Colombari, nota per la sua bellezza, talento e impegno in numerose cause benefiche, ha sempre condiviso con il pubblico momenti della sua vita professionale e personale, dimostrando una trasparenza e autenticità che l'hanno resa molto amata dal pubblico italiano. L'intervento chirurgico, necessario per risolvere un'improvvisa complicazione addominale, è stato eseguito con successo, e le notizie sul suo stato di salute sono state accolte con sollievo dai suoi numerosi fan. La Colombari ha ricevuto un'ondata di messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione, che testimoniano il legame profondo che ha saputo creare con il suo pubblico nel corso degli anni. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante la salute e come, spesso, possa essere messa a dura prova in momenti inaspettati. La prontezza e l'efficacia dell'intervento medico sono stati cruciali per Martina, sottolineando l'importanza dell'accesso a cure mediche tempestive e di alta qualità. Vogliamo anche riflettere sul messaggio di speranza e resilienza che Martina Colombari trasmette attraverso la sua esperienza. Nonostante le difficoltà, la sua determinazione a riprendersi e a tornare più forte di prima è un esempio ispiratore per tutti. Concludiamo con un augurio di pronta guarigione a Martina Colombari, sperando di vederla presto di nuovo in forma e attiva come sempre. La sua storia è un promemoria dell'importanza di prendersi cura della propria salute e di affrontare con coraggio e ottimismo le sfide che la vita ci pone davanti.